Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telebari. Non si è trattato di un caso di coronavirus, quello della donna ricoverata al Policlinico di Bari in rientro da un viaggio in Cina. Sono però alcuni casi già registrati in Europa, più precisamente in Francia. Tutti i dettagli nel servizio. Oltre 40 vittime in Cina e primi casi confermati in Europa, un falso allarme invece registrato a Bari. Resta altissima l'allerta per l'epidemia di coronavirus. Nella provincia di Wuhan le autorità cinesi stanno prendendo tutte le precauzioni possibili per contenere la diffusione, ma alcuni focolai sembrerebbero già essersi diffusi in altre parti del mondo. Non a Bari, per fortuna, le analisi approfondite condotte dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma hanno confermato la negatività del campione analizzato rispetto alla possibilità che si trattasse di infezione da coronavirus 2019-NCOV, irresponsabile del contagio proveniente probabilmente dagli animali. La donna presentava una più banale infezione da micoplasma, come già anticipato dai medici del Policlinico di Bari a poche ore dall'allerta. La sintomatologia, parzialmente sovrapponibile, unita al fatto che la paziente, una cantante lirica, era appena tornata da una tornea in Cina, avevano fatto partire inizialmente l'allarme, per fortuna poi rientrato. Per lei, trattandosi di infezione batterica, si proseguirà con una terapia antibiotica, dopodiché la si potrà far uscire dall'isolamento e proseguire con la cura a domicilio. La situazione in Italia è comunque sotto controllo. Ieri a Roma si è tenuto un vertice per stabilire il proseguo del piano di azione, ma proprio il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive, Giuseppe Ippolito, ha chiarito che l'Italia è stato il primo paese ad attivare un controllo specifico con lo screening termico dall'aeroporto di Fiumicino per il volo diretto. La probabilità di trasmissione è prossima a quella dell'influenza, ma senza un contatto diretto sotto il metro con una persona affetta dalla malattia in fase clinica. Questo rischio è assolutamente trascurabile, ha spiegato. Il pericolo per il nostro paese ad oggi è bassissimo, vicino allo zero. Non bisogna allarmarsi sui sintomi perché sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli di una qualsiasi affezione respiratoria. Poi concluso, intanto però sono stati confermati dei casi in Francia. Un altro sospetto è stato invece registrato a Napoli. Una donna proveniente dallo Sri Lanka è stata posta in isolamento in attesa di escludere la compatibilità con il virus cinese. La pagina della cronaca, gli voglio bene però se viene preso, è uno che racconta i fatti. Il collaboratore di giustizia Arturo Amore, 32 anni, ex affiliato al clan Strisciulio, racconta che così sarebbe stata decisa dai clan di Bari. La morte del 29enne Giuseppe Dellino ha detto ritenuto inaffidabile che fu prima sequestrato e rinchiuso in un casolare, poi ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il corpo gettato in un pozzo per anni è stato un caso di Lupara Bianca finché non vennero ritrovati i suoi resti nel 2013. Il verbale con le dichiarazioni del pentito è stato depositato al processo d'appello bis per il duplice omicidio del 29enne Vito Napoli, referente del clan Conte di Bitonto e di Dellino. Entrambi risalenti all'estate 2007. Stando alla ricostruzione accusatoria, Dellino faceva parte del gruppo di fuoco che ammazzò Napoli nell'ambito della guerra scoppiata tra i clan Strisciulio e Conte per la volontà dei Varesi di espandere il loro raggio d'azione a Bitonto dopo l'omicidio Napoli. Quindi il clan avrebbe deciso di eliminare Dellino per timore che parlasse. E proseguiamo con la cronaca. Particolari giacche di attaccheggio dotate di schermatura per eludere i controlli e un'apertura lungo la fodera interna dove nascondere la repurtiva. Questo era l'escamotage utilizzato da tre cittadini georgiani di età compresa tra i 25 e i 30 anni per razziare almeno tre supermercati del di Monopoli in un solo pomeriggio. L'ultimo colpo però non è andato a buon fine. Per i tre sono scattati inevitabilmente le manette. I dipendenti dell'ultimo market, preso di mira dai malviventi, insospettiti dall'atteggiamento assunto dai tre lungo i corritori del negozio, avevano allertato la polizia che giunta sul posto aveva individuato e bloccato subito i due componenti del gruppo. Il terzo uomo, che in un primo momento era riuscito ad allontanarsi, è stato intercettato poco dopo nei pressi dell'auto utilizzata dalla banda all'interno della vettura. Altri giacconi da furto, liquori e varia merce rubata. Per un valore di 350 euro due dei tre uomini arrestati sono risultati anche non in regola. con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari in Italia. E parliamo invece di elettrosmog. Questa mattina manifestazione di protesta di alcuni gruppi cittadini di fronte al comune di Bari, oggetto della manifestazione, l'installazione delle antenne 5G. Tutti i dettagli nel servizio di Maria Alessia Sforza. Torino, Bologna, New York, Tokyo, ma anche Bari. La manifestazione di protesta per dire no al 5G e all'elettrosmog. Che ha coinvolto tantissimi paesi d'Italia e del mondo, arriva anche in città. E così il comitato No 5G Bari e Fare Verde si è riunito in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Palazzo di Città, in una mobilitazione per informare la cittadinanza sui rischi che la tecnologia mobile di quinta generazione comporta, ma soprattutto per far fermare la sperimentazione 5G che trova in Bari una delle sue città pilota. Ma c'è di più, il comitato No 5G di Bari, insieme ad altre associazioni cittadini, ha richiesto e richiede ancora al primo cittadino di sospendere in via cautelativa ogni sperimentazione di antenne 5G in tutta l'area metropolitana, adottando il principio di precauzione sancito da leggi italiane ed europee, adottato già da altri comuni. Noi siamo così, diciamo, assillanti nei confronti del nostro sindaco, perché oltre ad essere il garante della salute pubblica, lui potrebbe attivarsi, come hanno fatto tanti sindaci in Italia, più di 100 credo siano i comuni, ora non ricordo, 126, che si sono appellati al principio di precauzione, che è sancito sia con leggi italiane che europee. E questo è il motivo della nostra maglietta che grida non siamo cavie. Quindi lui potrebbe appellarsi a queste leggi e fare come hanno fatto altri sindaci. Da una parte l'evoluzione tecnologica, dall'altra la preoccupazione del comitato sui presunti rischi legati alla nuova tecnologia, nata per collegare ad alta velocità oggetti e persone in un'unica rete senza fili, rischi che lo stesso comitato è elencato in una serie di punti, fatti stampare in un volantino distribuito durante la manifestazione. Diversi danni di tipo comunque neurologici e fisici che non sono visibili oggi, ma a distanza di anni. E ci spostiamo ora a Palese, dove è stato inaugurato questa mattina il nuovo playground di via Minervino, il nuovo campo da basket. Pallavolo è stato dedicato durante l'inaugurazione a Giuseppe Scaglione, presidente del comitato residenti di Palese, scomparso solo qualche giorno fa. Un nuovo spazio pubblico attrezzato per l'attività sportiva, consegnato alla città e ai cittadini. L'è stato inaugurato il nuovo playground di via Minervino a Palese, uno spazio in cui è stato realizzato un campo pluridisciplinare da basket e pallavolo, circondato da un'area verde che sarà completata nelle prossime settimane con nuove piantumazioni. È uno dei 14 tra playground e punti sport che stiamo realizzando in città per trasformare Bari in una palestra a cielo aperto. Questa è costata 140 mila euro, dobbiamo finire con la piantumazione di qualche albero, con l'illuminazione che posizioneremo dopo, era importante aprirlo subito e tutti hanno dato un contributo, Decathlon ci ha dato i palloni, il comitato di quartiere ha invitato tutte le famiglie, il municipio ha accelerato la consegna, insomma io ho giocato un po' a palacanestro, quindi ognuno di noi fa qualcosa. Non solo un campo polifunzionale dove poter giocare, ma un vero e proprio luogo di aggregazione per il quinto municipio che insieme al comune di Bari e al comitato dei residenti della zona 167 di Palese ha voluto dedicare il nuovo playground a Giuseppe Scaglione, scomparso improvvisamente qualche giorno fa. La dedica speciale è quella che il municipio, anche su indicazione dell'assessorato allo sport, ha deciso di fare per Giuseppe, il presidente del comitato della zona 167 che ci aveva chiesto con forza questo playground, lo faremo in suo onore, apporremo una targa che è un simbolo dell'impegno che lui ha dato nei confronti della cittadinanza del quartiere. E tornano anche di domenica le bancarelle in via Salvemini, l'appuntamento con l'apertura straordinaria del mercato settimana del giovedì di via Salvemini, il piazzale Elorusso per l'appunto è fissato per domani, domenica 26 gennaio, e a renderlo noto la ripartizione, sviluppo economico che su richiesta delle organizzazioni di categoria ha disposto con un'ordinanza la nuova apertura straordinaria per recuperare la giornata persa allo scorso, 5 gennaio, a causa delle condizioni meteo avverse. Il mercato di merci varie resterà aperto fino alle 14 di domani. E ci spostiamo invece ora in Viale Kennedy, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bari, Giuseppe Galasso, ha reso noto che sono cominciati nelle scorse ore i lavori per la riqualificazione del giardino di Viale Kennedy a Poggio Franco. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo camminamento centrale che permetterà di accendere a un ampio spazio con pavimentazione antitrauma su cui saranno installate nuove attrezzature ludiche per i più piccoli. I lavori prevedono anche l'installazione di 7 nuovi pali di pubblica illuminazione posizionati ad altezza tale da non interferire con le fitte chiome degli alberi esistenti così da garantire una buona illuminazione dello spazio verde e la creazione di una piccola area recintata per lo sgammamento dei cani e il posizionamento di 5 nuove panchine di cestini porta rifiuti. I lavori aggiudicati all'impresa Terlizzi e Sarelle con il 34% di ribasso d'asta e il cui costo complessivo ammonto a 85 mila euro sono finanziati con fondi del Municipio 2 e saranno completati entro la fine di giugno. E adesso la pagina della cultura la storia di Barletta raccontata in diretta dai suoi protagonisti nel Fantasma del Castello il nuovo libro del giornalista Michele Cristallo lo ha intervistato per noi Alessandra Bucci. Il Fantasma del Castello è l'ultimo lavoro di Michele Cristallo ed è un viaggio nella memoria e nella storia attraverso le voci dei protagonisti che hanno fatto questa storia. Beh sì, attraverso il dialogo tra il Fantasma del Castello appunto che io faccio risvegliare dopo millenni e una guardia giurata, la guardia giurata del Castello faccio parlare in prima persona tutti i grandi personaggi che hanno attraversato la storia, ma non solo la storia di Barletta ma la storia della Puglia, la storia dell'Europa alcuni penso a Annibale per esempio che parla in prima persona della sua esperienza di condottiero dalla conquista nella Spagna poi attraverso l'Alta Italia le Alpi fino alla battaglia di Canne vittoriosa fu la più grande sconfitta dei Romani e poi fino a Zama con il riscatto di Roma e quindi la sconfitta di Annibale faccio parlare Federico II di Svevia che è stato l'imperatore svevo più autorevole nel 1100 appunto e la metà del 1200 faccio parlare Ettore Fioramosca e quindi l'epica battaglia della disfida di Barletta faccio parlare Isabella d'Aragò poi faccio parlare anche una donna particolare Alessandra Benucci che è stata la moglie di Ludovico Ariosto ed è una signora barlettana fino a Eraclio la leggenda del Colosso di Barletta e poi il maestro Giuseppe Curci al quale intitolate Teatro Comunale di Barletta e poi infine il grandissimo pittore l'immenso pittore Giuseppe De Nittis È una relazione molto semplice ad uso e consumo anche dei giovani studenti delle scuole Ma io scrivendo questo libro ho pensato ai ragazzi delle scuole perché i ragazzi che vogliono leggere la storia del loro territorio senza lasciarsi spaventare dalle date sai il discorso accademico, aulico io con un linguaggio semplice giornalistico faccio narrare proprio in prima persona da questi personaggi la storia che è poi la storia del Mezzogiorno la storia d'Europa e lo faccio con un linguaggio semplice e mi auguro appetibile da parte dei ragazzi quindi una maniera di conoscere la storia del nostro territorio anche divertendosi E ora la pagina sportiva più precisamente il calcio grandissima attesa per la resa dei conti domani il big match tra Regina e Bari tra i convocati ritorna Valerio Di Cesare il capitano della SSC Bari spero sia pronto per scendere in campo le parole di mister Vivarini in conferenza stampa è una partita non da Lega Pro sarà una partita bella allora eravamo molto preoccupati perché anche dalle immagini si era visto l'infortunio che gli era capitato però adesso siamo molto ottimisti perché praticamente non ci sono grandi problemi c'è una contusione che oggi voglio dire l'abbiamo un attimino fatto allenare è chiaro che c'è ancora dei dolori è da valutare sicuramente domani ma io spero di averlo anche a disposizione e vi ricordiamo che seguiremo in diretta il match su Tele Bari con tanti ospiti con la conduzione della nostra Barbara Cirillo e su Radio Bari con la radio cronaca in esclusiva commentata per l'appunto da Cristian Siciliani la frequenza 88.8 ve lo ricordiamo ma sarà possibile anche ascoltarla dal web sul sito www.radiobari.net e sulle nostre pagine social parliamo adesso invece del meteo il generale inverno continua ad essere latitante così il colonnello Vita Antonio la ricche merito alle previsioni previste per le prossime ore ascoltiamo le sue parole è un fine settimana fotocopia rispetto a quello dell'ultimo trascorso si parte con un sabato con cielo poco nuvoloso qualche addensamento i venti che cominciano a orientarsi intorno a 40 locali temperature massime attorno ai 15 gradi sulla fascia costiera e zone interne tra i 6 e i 7 gradi ma ovviamente le nubi incombono a ridosso della nostra regione o della nostra provincia una debole perturbazione ci attraverserà tra sabato notte domenica e lunedì ripeto come la fotocopia del weekend ultimo passato quindi venti a casa scilocali annuvolamenti per domenica e lunedì qualche breve precipitazione più intensa e soltanto nella fascia salentina i venti da quadrante mediali delle temperature più primaverili che invernali valori massimi attorno ai 15 gradi la situazione è abbastanza grave e critica di inverno non se ne parla per niente anche se la stagione ci dice che siamo in inverno il vero proprio inverno è latitante il generale appunto inverno è molto lontano e non si prevedono né nevicate né gelo né freddo per diversi giorni ancora settimana prossima e ventura sarà discreta più che altro autunnale che non invernale qualche addensamento e qualche brevissima precipitazione giovedì e poi purtroppo tra virgolette ancora bel tempo e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it a tutti un buon proseguimento di serata il meteo è offerto da sgservicesud.it un saluto a tutti gli ascoltatori da Manna Mazzlini di Trebimete la perturbazione che ha raggiunto l'Italia centro settentrionale domenica scivola verso l'Italia meridionale dove apporta qualche fenomeno notiamo anche dalle precipitazioni nel contempo richiama correnti ancora umide che portano un po' di variabilità anche sulle regioni centro settentrionali con il rischio di qualche fenomeno sui settori tirrenici notiamo però questa perturbazione che si avvicina ancora alla nostra penisola e soprattutto nella giornata di martedì porterà un peggioramento andiamo a vedere dalla nuvolosità come appunto il fronte scivola verso il sud est porta ancora qualche fenomeno ripeto sulle regioni meridionali ancora correnti umide investono l'Italia centro settentrionale con molte nubi quindi spiccata variabilità e rischio anche di qualche fenomeno lo vediamo anche dalla previsione più nel dettaglio come qualche pioggia o rovescio interesserà dapprima le regioni meridionali specie nella seconda parte della giornata qualche fenomeno atteso anche sulle regioni tirreniche specie tra Toscana Umbria Alto Lazio e localmente tra le marche al primo mattino qualche residuo fenomeno all'estremo nord-est ma con tendenza a miglioramento specie sulle regioni settentrionali solo a fine giornata qualche fenomeno sulle Alpi Occidentali per l'avvicinamento di una nuova perturbazione le temperature rimangono abbastanza stazionari o in leggero rialzo al nord appunto è ancora piacevole sulle regioni meridionali dove toccheremo i 16-18 gradi per maggiori dettagli comunque scaricate l'app di Trebi Meteo il meteo è offerto da sgservicesud.it attenzione